Il premier libanese Mikati esorta la comunità internazionale a impedire che Israele intraprenda una guerra genocida contro il Libano. L'intervento segue l'ultimo massiccio attacco israeliano nella periferia sud di Beirut. C'è stato un gran numero di morti, aggiunge il premier. Gli USA sono stati informati pochi minuti prima dell'attacco. L'ordine è stato dato da Netanyahu mentre era a New York, anticipato il rientro in Israele.